bello a tutti ragazzi oggi siamo con ciodoboy ciao ciodo perché mi piace vincere facile e quindi faremo uno 0 100 con la mia moto e il suo ciodo cilindrata 2.5 cavalli più di 300 e allora ho già vinto ciao mamma mia rigomme son fredde mi sa che con le gomme così devo scaldarla ancora un po ok finalmente la gomma non ha sgommato bene ragazzi sta registrando sta registrando no non sta registrando si non buttatemi sotto eh cazzo ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto